Ha vinto il ragno di Avanzini, ma ha vinto anche il Carnevale. 2 milioni e 260 mila euro l'incasso finale per la fondazione presieduta da Stefano Pasquinucci, il migliore risultato degli ultimi quattro anni. E una grande partecipazione popolare ai corsi mascherati, c'è da dire di sicuro agevolata anche dal tempo. Le quattro sfilate sono riuscite a scansare sempre la pioggia e a infilare domeniche quasi primaverili. Da oggi si apre il capitolo dei finanziamenti pubblici, cioè se e di quanto il Comune deciderà di tagliarli e quale sarà la reazione dei carristi e della fondazione. Intanto però si continua a parlare del verdetto che ha premiato Alessandro Avanzini, per lui sesta vittoria negli ultimi nove anni. Ci sono state polemiche, come accade quasi ogni anno. Lui, la mattina dopo il trionfo, era già al lavoro del suo hangar, lavoro spesso interrotto da telefonate di congratulazioni. Alessandro Avanzini, quante telefonate hai ricevuto da ieri sera? Abbastanza, però ho anche dormito, quindi ho dormito molto, quindi molte me le sono perse. Domanda scontata, si aspettava questo nuovo successo? Ma il carro quando è uscito su Viale Amare ha avuto un'apertura di credito notevole, poi però siamo in gara, quindi c'è da aspettarsi di tutto. Speravo di poter essere sul podio, ci sono riuscito al massimo livello, quindi va bene, è stata una conferma del lavoro. Qual era il messaggio di quest'anno attraverso questo carro? Ma il rapporto tra gli utenti e internet, ciò che è gratuito in realtà non lo è, e quindi questa adesione volontaria ha un gioco di cui noi facciamo parte integrante perché ne diventiamo merce. Possiamo parlare di un carnevale perfetto? Allora, i numeri sembrerebbero riconfermare il fatto che il carnevale ancora è molto radicato nella cultura popolare e che Biareggio ha questo marchio, questo brand importante che fa venire tantissime persone. Quindi diciamo che questa è una buona base di partenza e credo che il sistema carnevale possa migliorare, possa diventare una manifestazione culturalmente più importante, non solo interregionale, ma avere anche spazi più importanti, sia per attirare più pubblico dall'estero, visto che siamo nella comunicazione internet, eccetera, sia per avvalorare il suo spessore culturale. Sabato prossimo, atto finale del carnevale, con la cerimonia di premiazione.